Un saluto dal Tg della mobilità. Con la riapertura delle scuole da oggi tornano regolarmente in strada le linee S, i 13 collegamenti speciali a supporto della rete ordinaria dei bus gestiti dalla società regionale Astral. Le 13 linee S tornano attive secondo le consuete modalità, ovvero da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e poi nel corso del pomeriggio dalle 13 alle 16. Soltanto la linea S15 che viaggia nella zona di Acilia nel corso del pomeriggio allunga il suo orario e resta attiva fino alle 19. E da oggi al 2 novembre, in occasione del periodo dedicato alla commemorazione dei defunti, più corse sulle linee della memoria sarà potenziato il servizio dei bus diretti ai cimiteri della città e quello delle linee ordinarie 024 e 042. I dettagli su romamobilità.it